Alessia Marcuzzi attaccata dagli hater sui social, Roberto Alessi, si sono bevuti il cervello. Alessia Marcuzzi, giorni fa sul settimanale Oggi, ha rivelato di aver adito per vie legali nei confronti di un profilo anonimo che sui social si è spacciato per lei. La conduttrice delle Iene ha anche dichiarato di ricevere quotidianamente sui social minacce di morte da molti hater, non facendo mistero di essere davvero molto preoccupata. Su tutta questa incresciosa faccenda ha voluto esprimere la sua opinione Roberto Alessi sull'ultimo numero del magazine Novella 2000. Cosa ha detto? Il popolare opinionista di Barbara D'Urso ha dapprima rivelato di essere davvero rimasto senza parole nel momento in cui è venuto a sapere di questa vicenda, e successivamente ha dichiarato di credere che ormai tante persone si siano bevute il cervello. Ormai i follower si sono bevuti il cervello. Roberto Alessi su Alessia Marcuzzi presa di mira sui social. Roba da aver paura. Roberto Alessi, sempre in questo suo intervento sull'ultimo numero del magazine Novella 2000, ha poi dichiarato di capire perfettamente lo stato d'animo di Alessia Marcuzzi nell'essere sempre al centro delle attenzioni di questi leoni da testiera, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue, roba da avere paura. Il direttore del magazine di gossip, il quale ha espresso la sua opinione su Vera Gemma e Geda, ha poi aggiunto che nonostante Alessia Marcuzzi abbia denunciato queste persone continuano ad andare avanti nell'insultare. Alessia ha denunciato, ma quelli vanno avanti. Alessia Marcuzzi insultata sul web, arriva l'appello di Roberto Alessi. Bisogna proibire l'anonimato. L'opinionista di Barbara D'Urso ha poi concluso questo suo intervento sull'ultimo numero del magazine Novella 2000 parlando sempre di tutta questa faccenda in cui è tristemente protagonista Alessia Marcuzzi, la quale ha rivelato di essere fragile e bambinona, facendo un accorato appello. Difatti l'uomo ha dichiarato che non bisognerebbe permettere più a queste persone di scrivere qualsiasi cosa nel più totale anonimato. Ma quando si decideranno a proibire l'anonimato nei social, nome, cognome, indirizzo, loro conoscono quello di Alessia Marcuzzi, perché non può essere anche il contrario?